Quattro noti imprenditori ritenuti vicino al clan dei Casalesi sono stati arrestati stamattina dai carabinieri nell'ambito di un'indagine sulla penetrazione della camorra nel tessuto economico della provincia di Caserta. Notificate anche due misure interdittive al responsabile protembro dell'ufficio tecnico del comune di Capua, gravemente indiziato di turbata libertà degli incanti e corruzione e un impiegato di banca che era in servizio a Santa Maria Capovetere accusato di avere consentito trasferimenti di danaro contante su conti bancari riconducibili al clan, sequestrati dalla Guardia di Finanza beni per 15 milioni di euro.